La passione per il running mi è nata una volta che ho terminato di giocare a calcio avevo 18 19 anni ovviamente la corsa faceva parte già del mio allenamento quando giocavo a calcio però mi ci sono iniziato a dedicare quando ho terminato l'attività calcistica e ho iniziato a fare insomma prima diciamo joking senza troppo pensare ai tempi e le distanze poi man mano in maniera progressiva ho capito che era la mia passione forse più importante. Faccio running perché è un'attività sportiva che mi gratifica e mi stimola mi eccita e soprattutto riesce diciamo ad arrivare a farmi trasformare la sensazione di fatica in piacere. Lo faccio perché amo gli sport di resistenza di endurance e tutto quello che è lavoro aerobico e lo faccio perché così tra l'altro posso mangiare quello che mi va perché amo il cibo sono un'ottima forchetta e il running mi permette di bruciare tutto quello che voglio e corro perché poi anche esteticamente so che insomma mi permette di essere molto magro e quindi dato che sono un arciso sicuramente so che il running insomma è garante di un'ottima forma.